Porto di cotone, cinquecento navi ci sono, e chiutami la bella, vivi come so. E la bella è arrivata, e le torche si l'hanno pigliata. E vota nave, gira navi, e una bella chi è in Cieno va. E portatemi a quello porto, dove il mio pagi sta. O pagi mio bellissimo, riscattami di cà, o figlia mia dolcissima, e quant'è il suo tuo riscatto? Tri, barcù, trilioni, tricoloni, d'oro ci sta. Vi devo fare una comunicazione riguardo questa storia, non c'è nessuna macchina da spostare, la comunicazione riguarda la storia che vi sto raccontando. Il papà, in questione, che doveva riscattare la figlia, da buon calabrese, era un po' più piccolo. Non è che le casetate da 50 lire o 50 genesi? Sade. E risponde così. E' meglio bella che a te perdisse, e non tutto loro che si è in Cieno va. E' meglio bella che a te perdisse, e non tutto loro che si è in Cieno va. E vota nave, gira navi, e una bella chi è in Cieno va. E portatemi a quello porto, dove il mio pagi sta. O magia mia bellissima, riscazza mi ricà. O figlia mia dolcissima, e quant'è sul tuo riscatto? Tri falcuni, tricoloni, tricoloni, d'oro ci sta. Ma siccome era la moglie di un cristiano in precedenza, E' meglio bella che a te perdisse, e non tutto loro che si è in Cieno.